Ciao a tutti gli amici di MTV VCO, siamo qui pronti con un'altra scatola per fare l'unboxing di una bici che ci ha inviato Billiard. Andiamo a vedere cosa c'è. Siamo quindi al cospetto della Billiard Usma SLR, la piattaforma Artail presentata lo scorso anno dall'azienda Triestina su grande richiesta degli atleti del team Billiard Pirelli. Una costruzione Artail quindi pensata per cross country ma soprattutto per il marathon, per le gare marathon, voluta fortemente dagli atleti Billiard Pirelli. Una piattaforma molto leggera, pensate che il solo telaio dichiara un peso di 850 grammi. Una bici pensata per le massime prestazioni in gara. Andiamo a vederla nei dettagli. La Usma SLR utilizza un telaio che sfrutta il carbonio HUS Mod, la stessa fibra di carbonio che Billiard utilizza per le sue bici da strada da competizione. Potete notare le tubazioni sono molto tondeggianti, questo per sfruttare il miglior rapporto tra rigidità e peso. Nel triangolo principale ovviamente sono presenti due attacchi per porta borraccia, qui troviamo già un porta borraccia installato. In aggiunta è prevista la possibilità di utilizzare un reggisella di tipo telescopico grazie al passaggio interno al telaio dell'eventuale cavo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, un rapido dettaglio, la componentistica della Usma SLR. Partiamo dalla forcella dicendo che si tratta di una Fox 32 SC Factory con la possibilità di regolare la compressione su due posizioni, quindi aperto o chiuso tramite il comando remoto al manubrio. Le ruote sono le Mic K1 con cerchio in carbonio, larghezza interna da 27 mm e 24 raggi. Neumatici Pirelli, troviamo gli Scorpion XCRC Lite da 29 pollici per 2.4. La trasmissione SRAM a 12 velocità, troviamo la XX1 AXS, quindi elettronica wireless, con cassetta Pignoni 10-52 e davanti una corona da 32 denti. I freni sono gli Shimano XTR con dischi da 160 mm di diametro. Particolarità della Usma SLR è la presenza di un manubrio integrato con l'attacco. Si tratta dell'urta bar che avevamo già visto sul full suspended urta SLR. Abbiamo quindi un manubrio da 740 mm di larghezza, in questo caso con manopole AC GRIPS. La sella è una Prologo Dimension e poggia su un reggisella in carbonio Ricci Carbon. E veniamo al peso per dire che la Usma SLR in taglia L senza pedali in questo allestimento ha un peso di 9,4 kg. Bene, se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi alla nostra piattaforma YouTube, ma soprattutto a seguirci su tbvco.com dove troverete prossimamente le nostre impressioni su questo mezzo. Un saluto a tutti!